Siamo pronti a discutere col Partito Democratico nel merito della legge elettorale. Siamo molto aperti, come lo siamo stati finora, a discutere sul merito dei provvedimenti, ma a due condizioni, che siano introdotte le preferenze e che non siano assolutamente più ammessi condannati in Parlamento. Vediamo giovedì cosa ci risponderà il PD.